All'intervista, come sapete, la Corte Costituzionale ha bocciato l'ipotesi di referendum che voleva, almeno, reintrodurre il maggioritario in Italia. E dunque ci si interroga con quale sistema elettorale andremo a votare, quando andremo a votare. Sky TG24, lo sapete, interroga su questo punto i più autorevoli costituzionalisti, ma io è proprio da questo che vorrei partire oggi con l'ospite dell'intervista di questo sabato, la leader di Fratelli d'Italia e anche, secondo Times, tra i 20 personaggi più influenti al mondo, vale a dire con Giorgia Meloni. Benvenuta all'intervista, Giorgia Meloni. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, qual è il sistema elettorale che le piace di più? E le piace il cosiddetto germanicum che reintrodurrebbe il proporzionale in Italia? Assolutamente no, io penso che il sistema proporzionale sia semplicemente oggi un modo per consentire a forze politiche sostanzialmente agonizzanti di tenersi abbarbicate al potere anche in assenza di un consenso sufficiente, lo sanno tutti. Io sono convinta che invece l'Italia abbia bisogno di un sistema elettorale fatto non per difendere quelli che lo scrivono, ma per difendere gli italiani che votano. E l'unico modo per aiutare l'Italia è avere un sistema elettorale che consenta a chi arriva primo in un sistema di coalizioni, di alleanze, di avere i numeri per poter, non dico governare, ma governare per cinque anni. Perché l'altro elemento che nessuno cita del proporzionale è che è proprio il sistema perfetto per l'ingovernabilità e quindi per avere governi che non si assumono la responsabilità di quello che fanno e che tendenzialmente durano per lo spazio di un anno, un anno e mezzo, due anni. E questo sta uccidendo l'Italia, per cui per me va bene qualunque sistema che preveda un premio di governabilità o un premio di maggioranza. Un'ultima cosa, Maria, chiedo scusa. Trovo francamente surreale che il Partito Democratico, che ha scritto, voluto e votato il Rosatellum, oggi ci dica, come se nulla fosse, che il Rosatellum letteralmente fa schifo. Possono almeno chiedere scusa agli italiani per averlo votato, visto che oggi ci spiegano che fa schifo, ma è un sistema che hanno voluto e votato loro? Perché io non l'ho votato. Cioè, ci sono stati molti ripensamenti anche sul Porcellum, che fu il sistema elettorale poi introdotto dal centrodestra. Senta, col Germanicum, col ritorno al proporzionale... Perché? Perché le forze, diciamo, di centrosinistra, dal Partito Democratico a Italia Viva, l'EU, Bonino, Calenda, eccetera, potrebbero avere più voti, paradossalmente, di quanti ne potreste raggiungere voi nel centrodestra. Questo significa che dovete prepararvi, in ogni caso, a una lunga attraversata nel deserto, Meloni, a altri anni di opposizione, ammesso che si vada a votare, diciamo, tra un anno o due anni. Beh, guardi, se anche fosse vero, ma secondo me non lo è, adesso le spiego perché, dal mio punto di vista, non sono particolarmente preoccupata. Le ricordo che ho, diciamo, scelto di uscire da un partito che aveva oltre il 20% per fondarne uno che al tempo prese il 2%. E quindi, diciamo, non mi spaventano le traversate nel deserto, non mi spaventa l'opposizione. Il punto è che però non penso che lo scenario sia quello che appunto lei disegnava, perché la politica non è aritmetica. La politica è una cosa molto diversa dall'aritmetica. E intanto segnalo che tutti i sondaggi dicono che nella peggiore delle ipotesi per il centrodestra con il Germanicum e con i sondaggi che ci sono oggi saremmo in parità. In secondo luogo segnalo che il Germanicum è un sistema elettorale che prevede una soglia di sbarramento molto alta, quindi ci sono una serie di forze che lei ha citato che secondo me non arriverebbero in Parlamento. E terzo, io credo che gli italiani non siano cretini. Se si mettono insieme, Italia Viva, Calenda, ce la fanno? Oh, ci sto arrivando. Sì, sì, tanto bisogna vedere, perché anche lì non è aritmetica. E poi gli italiani non sono cretini. Vede i numeri che oggi noi vediamo nei sondaggi, se lei chiama qualcuno a casa e dice allora vorrebbe votare per Calenda piuttosto che per Di Maio o per Zingaretti, poi deve chiedere a quella persona se voterebbe Di Maio o Zingaretti alleati. Alleati. Allora, anche in un caso di un sistema proporzionale, io chiederò che ogni partito dichiari prima del voto quali sono le sue alleanze possibili. Così vediamo se gli italiani votano non un sistema nel quale ognuno ottimizza il proprio consenso e poi lo tradisce per andarsi a alleare con quello che dichiarava che avrebbe combattuto, ma vediamo quanti voti questa gente prende dichiarando che è disponibile a allearsi con chiunque. Dice con chi ti allea il partito democratico? Sono disponibili a allearmi con tutti. Vediamo quanti voti prendono, perché in democrazia dovrebbe funzionare così. Che io dico ai cittadini prima che cosa voglio fare, i cittadini mi votano su quella base. Bisogna vedere se tutti lo faranno. Per esempio Italia Viva potrebbe decidere di non dire se poi si alleerà col partito democratico o con Salvini. Ma lei un governo con Italia Viva Correnzi lo farebbe? Gli italiani giudicherebbero anche questo. Se Italia Viva non lo dichiarasse, gli italiani saprebbero che il sistema di alleanze possibili di Italia Viva è un tantino troppo allegro. Io per quello che mi riguarda, su questo sono stata sempre molto chiaro, il mio unico perimetro di alleanze e di governo è il campo del centrodestra e quindi non sarebbe disponibile allearmi con Renzi. Ma voglio anche dirle che per come la vedo io, credo che potrebbe non esserci il partito di Renzi nella prossima legislatura. Cioè che non arriva al 5% sempre che questo sia lo sbarramento? Secondo me no, secondo me no, infatti credo che siano tutti, diciamo così, che sia un po' fantapolitica quella della quale stiamo parlando. Se questi signori, io non sono per il sistema proporzionale e farò le barricate contro il Germanicum perché è un sistema fatto contro gli italiani e contro gli interessi dell'Italia. Ma tutte le forze politiche che hanno pensato di potersi cucire addosso a un sistema elettorale sono state penalizzate da quello stesso sistema elettorale, sono state penalizzate da cittadini che capivano che i partiti avevano fatto delle leggi per difendere i propri interessi e non quelli dei cittadini. E' quello che accadrà anche stavolta. Il centrodestra, che secondo me dovrebbe in ogni caso dichiarare le proprie alleanze e fare la campagna elettorale come se fosse in un sistema di alleanze, vincerebbe le elezioni comunque. Senta, a proposito di elezioni, lei è in Emilia-Romagna. Se il centrodestra perdesse, qualcuno dice Salvini si deve dimettere da leader della Lega. Lei che ne pensa? Ma guardi, non mi pare francamente una roba all'ordine del giorno. Penso che la Lega comunque avrà ottimi risultati e quindi mi pare una cosa che non ha alcun senso. Poi, noi crediamo che nel centrodestra qui si possa assolutamente vincere. Io ho appena finito, ho finito da poco un comizio a Piacenza, nonostante la pioggia, una piazza gremita. Ovunque andiamo troviamo un entusiasmo straordinario, una partecipazione straordinaria e mi pare che anche il nervosismo della sinistra tradisca i reali sondaggi. Guardi, ieri è accaduta una cosa divertentissima se non avesse del grottesco. Siamo stati sulla E45, una importante arteria italiana all'altezza di Cesena, a novembre era caduto un pezzo di cavalcavia. C'era un cantiere che per due mesi era stato completamente fermo. Mercoledì abbiamo annunciato che saremmo andati con Fratelli d'Italia a fare un flash mob e dopo due ore magicamente si sono presentati gli operai. In tre giorni hanno chiuso il cantiere. Si figuri se Fratelli d'Italia solo con la forza del pensiero riesce a risolvere i problemi dell'infrastruttura di Emilia-Romagna che cosa possiamo fare al governo della regione, verrebbe da dire. Ma la verità è che la sinistra ha dimostrato... da due mesi, non perché c'erano dei problemi o degli intoppi ma perché non gliene fregava niente e gli interessava solamente la campagna elettorale. Penso che questa regione meriti molto di più e che l'abbiano capito anche i cittadini delle Emilia-Romagna. Stia attenta perché le facciamo arrivare un sacco di telefonate da ascoltatori di Sky TG24 che le segnaleranno tutti i problemi di viabilità a Roma e nel resto d'Italia. Lei annuncia che ci va e magicamente tutto si risolve. Le volevo chiedere una cosa seria. Quindi sono disponibile. Lunedì si vota sul caso Gregoretti dunque se mandare o no a processo Matteo Salvini. In passato i parlamentari di centrodestra sono stati coinvolti in votazioni di vario ordine e tipo. Ricordo quella per Rubi, la nipote di Mubarak. È più complicato oggi con il voto appunto sul Gregoretti o è stato più complicato all'epoca della nipote di Mubarak? Sono due cose completamente diverse. In ogni caso io penso che sia uno scandalo l'indagine a danno di Salvini sulla vicenda Gregoretti. Penso che sia scandaloso che un ministro che ha fatto il suo lavoro e ha impedito immigrazione illegale in Italia venga processato mentre non sono mai neanche stati indagati i ministri che facevano apertamente favoreggiamento del reato di immigrazione clandestina. Penso che sia ancora più scandaloso il voto del Movimento 5 Stelle e la posizione del Premier Conte perché se il Premier Conte e il Movimento 5 Stelle non erano d'accordo con l'attività del ministro Salvini non si è capito perché il Presidente del Consiglio non è andato da Mattarella a chiedere il ritiro delle deleghe al ministro Salvini perché se è come dicono loro oggi che Salvini era un sequestratore ai tempi della Gregoretta mi corre l'obbligo di segnalare a Conte e a Di Maio che loro stavano al governo pur di rimanere seduti sulla poltrona con un sequestratore per cui o hanno ragione oggi e quindi sono stati al governo con un sequestratore o avevano ragione ieri e allora stanno usando la Giunta per le autorizzazioni a procedere per sanare alcuni conti politici e le istituzioni non si utilizzano così. Dopodiché un'ultima cosa scusi ma quando il ministro Lamorgese ha tenuto 11 giorni gli immigrati sulla Ocean Viking a largo delle coste italiane perché si votava in Umbria quello andava bene? Qualcuno mi faccia capire. Qualcuno mi faccia capire. Ecco, senta, secondo lei quindi mettiamo insieme i casi giudiziari che riguardano Salvini il caso Metropol quello del contatto a Mosca con Savoini poi il caso Diciotti ora il caso Gregoretti c'è una persecuzione secondo lei una persecuzione giudiziaria contro Salvini? Guardi, io non conosco il caso Metropol non l'ho studiato, non l'ho approfondito e quindi su questo non sono in grado di dire sul tema della Gregoretti così come sul precedente provvedimento sulla stessa materia penso che sia assolutamente incredibile che noi ci ritroviamo nella condizione di avere ministri che non fanno quello che piace al pensiero unico che si ritrovano processati per fare quello che non piace al pensiero unico ma che è quello che vuole la gente che è quello che vogliono i cittadini cittadini italiani a maggioranza a stragrande maggioranza chiedono di difendere i confini chiedono di fermare l'immigrazione irregolare è un ministro che per la prima volta in questi ultimi anni sceglie di farlo viene processato scusate credo che abbiamo un problema serio da questo punto di vista per cui questo è un caso secondo me assolutamente surreale e di accanimento questo sicuramente però c'è anche un pezzo di paese che va in piazza con le sardine a dire il contrario lei ha cominciato a fare politica veramente giovanissima che cosa pensa di questi ragazzi sono ragazzi che fanno politica a loro modo proprio come la fece lei in modo diverso alla loro età e dunque una mobilitazione così che pensieri le suscita Giorgia Meloni ma guardi io sono sempre contenta delle mobilitazioni si figuri che le organizzo e che quando le organizzo io mi dicono che sono eversiva quando ho portato 30.000 persone in piazza davanti a piazza Montecitorio lo scorso 9 settembre contro il governo che chiedeva la fiducia mi hanno detto che eravamo eversivi che c'era la rabbia in piazza perché la sinistra non era più in grado di mobilitare adesso si nascondono dietro le sardine e improvvisamente abbiamo riscoperto la partecipazione popolare per carità partecipazione popolare è sempre una cosa importante però io non è che sono scema non è che penso veramente che le sardine siano un movimento spontaneo non sono un movimento spontaneo già il fatto che ci sia un dibattito sulla piazza a Bibiano per me un movimento spontaneo che si mette a fare la guardia bianca degli scandali di Bibiano è oggettivamente qualcosa di abbastanza distante dalla mia idea di quella che dovrebbe essere la partecipazione chi c'è dietro chi c'è dietro le sardine c'è il PD c'è il PD c'è il PD come si dimostra ogni giorno le sardine fanno parte della campagna elettorale dell'Emilia Romagna del PD fanno il palio con Bonaccini candidato della sinistra scusi mi faccia rispondere un attimo scusi fanno il palio con una campagna elettorale fatta dal presidente candidato presidente presidente uscente dell'Emilia Romagna Bonaccini che ha magicamente fatto sparire tutti i simboli dei partiti che lo sostengono facendo finta che lui non è del PD ecco più o meno è lo stesso concetto delle sardine ma sempre PD è se ragioniamo in termini di retropensiero qualcuno potrebbe chiederle che cosa c'è dietro il fatto che lei Giorgia Meloni è stata scelta da Times come uno dei 20 personaggi più influenti qualcuno dice beh la Meloni adesso sarà il volto femminile il volto nuovo del centrodestra tutto contro Salvini che invece non piace all'establishment internazionale cosa risponde a quanti ipotizzano questa questa ipotesi che è fantapolitica e che in ogni caso mi pare che invece ci sia in questa fase sì da parte del mainstream questa tendenza a continuare a parlare di presunti screzi lontananze distanze tra fratelli d'Italia e la Lega tra la Meloni e Salvini che nascondono una grande paura verso quella che è un'alleanza solida e vincente a 360 gradi il punto è che non ci faranno litigare io e Salvini siamo due persone diverse fratelli d'Italia e la Lega sono due partiti diversi ma sono due partiti alleati e alleati in un modo diverso da come sono alleati PD e Movimento 5 Stelle noi non stiamo insieme perché abbiamo paura di votare noi stiamo insieme perché abbiamo una visione di base compatibile diversa in molti casi chiaramente siamo due partiti diversi ma compatibile e infatti già governiamo insieme e governiamo insieme ottimamente in moltissime parti d'Italia per cui questo giochetto di dire Salvini parla male della Meloni la Meloni si distanzia da Salvini è un giochetto che non regge privatamente come sono i vostri rapporti vi capita di sentirvi sono buoni avete mai fatto che ne so una cena insieme ai vostri compagni no non abbiamo fatto cena insieme ai nostri compagni perché sennò riusciamo a fare delle cene con i nostri compagni Maria purtroppo qui i tempi sono quelli che sono lei vede i tempi miei e vede anche diciamo i movimenti di Salvini però siamo persone che poi si sentono sulle questioni fondamentali che discutono le grandi vicende politiche che cercano una strategia comune su alcune questioni ovviamente poi siamo anche partiti che hanno una loro leale competizione ma non avrebbe senso avere una competizione l'uno a discapito dell'altro perché se il nostro obiettivo è quello di governare l'Italia e di dare all'Italia un governo stabile ci servono numeri importanti per cui che senso ha se in un'ottica di coalizione io guadagno un punto a scapito del mio alleato devo riuscire a guadagnare un punto a scapito del mio avversario o a scapito del non voto a scapito diciamo di consenso che non è già mio l'obiettivo oggi dovrebbe essere quello di crescere tutti quanti insieme per arrivare oltre al 50% e questo lo so bene io come lo sa bene anche Matteo Salvini come lo sa bene Silvio Berlusconi è il lavoro che stiamo facendo Cosa pensa dell'operazione che sta facendo Mara Carfagna con voce libera? La vede ancora nel campo del centrodestra o la vede diciamo posizionata appunto un po' di qua un po' di là? Ma guardi non lo so non mi è sempre chiarissimo l'attività di Mara in ogni caso grande rispetto vedo che è un dibattito molto interno a Forza Italia tendono a non infilarmici per rispetto insomma un partito che ha ovviamente i suoi travagli le sue discussioni interne quindi non sarebbe corretto da parte mia se io mi mettessi a giudicare il dibattito interno a un altro movimento sicuramente Mara è una personalità interessante spero ovviamente che rimanga nel campo del centrodestra non credo che fuori ci sarebbero ci siano molti spazi in generale oggi per cui mi pare anche già molto affollato il campo avverso insomma quindi consiglio di rimanere nel campo del centrodestra siamo alle ultime battute le chiedo di rispondermi se è possibile con un sì o con un no concessioni autostradali revoca ad autostrade giusta la revoca o giusto dare credito alla società che propone 7 miliardi e mezzo di investimenti e il mantenimento anzi l'accrescimento del numero degli occupati giusto la revoca se autostrade aveva 7 miliardi e mezzo di investimenti da fare voleva assumere poteva farlo anche prima visto che ha distribuito circa 10 miliardi negli ultimi anni di utili più gli altri 5 miliardi dalle royalties insomma del beverage del food beverage dei carburanti che guadagna il problema delle concessioni autostradali è che fin qui per come sono state concepite sono sostanzialmente dei pozzi di petrolio su cui persone sono sedute senza dover avere particolari vincoli credo che vadano ridiscusse credo che vadano fatte nuove gare nuovi contratti di concessione regionali in calabria perché si parla sempre di emilia ma ci sono anche le regionali in calabria la ringrazio per questo il centrodestra è in vantaggio le ultime inchieste del procuratore Nicola Gratteri che è stato ospite di questa trasmissione rivelano intrecci molto diciamo sostanziali tra l'andrangheta e anche establishment locale lei che cosa ha fatto per evitare che Fratelli d'Italia possa ritrovarsi con degli indranghetisti magari suo malgrado che vengono infilati nelle liste elettorali può garantire che non ce ne sono i Fratelli d'Italia? Tutto quello che potevo fare ho fatto Maria assolutamente tutto compreso rifiutare una serie di candidature che avrebbero portato molto consenso a Fratelli d'Italia ma sulle quali io non ero serena perché di persone che venivano dal PD da realtà troppo lontane dalla nostra e penso che quando sei in grado di spostare migliaia e migliaia di preferenze dalla destra alla sinistra in modo facile secondo me c'è qualcosa diciamo di non preciso quindi ho rifiutato queste candidature nel dubbio perché poi magari sono persone bravissime specchiatissime però diciamo ho preferito non avere problemi chiaramente siamo a fianco del procuratore Cratteri e anzi continuiamo a chiedere alla magistratura agli inquirenti di aiutare anche i partiti a sapere il prima possibile se c'è qualcuno diciamo in odore di fare cose non adeguate perché anche noi abbiamo bisogno di aiuto non è facile per noi abbiamo esponenti su tutto il territorio nazionale controllare a uno a uno tutti i nostri rappresentanti per cui assolutamente tutto quello che c'è da fare lo faremo io ho cominciato tutti quanti lo sanno a fare politica quando hanno ucciso il giudice Paolo Borsellino pochi mesi dopo dal massacro già di Giovanni Falcone e della sua scorta per me la lotta alla mafia è punto numero uno del programma di Fratelli d'Italia punto numero uno per chi ama la propria terra il 27 gennaio cioè il giorno dopo il voto in Emilia e in Calabria si decide anche sulla prescrizione che è il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle cioè la legge Bonafede che su questo non transige che cosa succederà perché il 27 si vota il disegno di legge costa il centrodestra sarà compatto nel voto e quindi bloccherà la legge Bonafede centrodestra sarà compatto nel voto io spero che la legge si riesca a bloccare così come è fatta è diciamo una una norma che serve a fare propaganda al Movimento 5 Stelle ma che di fatto diciamo priva l'Italia di pezzi importanti di Stato di diritto ha un senso mettere mano alla prescrizione se prima lavori sui tempi certi della giustizia sulla celerità dei processi ma immaginare che qualcuno che viene assolto in primo grado possa non avere mai una prescrizione immaginare che magari possa rimanere ipoteticamente indagato e sotto processo per tutta la vita da innocente beh per me è questo francamente è intollerabile per uno Stato di diritto lo Stato di diritto prevede che lo Stato sia efficace ed efficiente non abbiamo il tempo per andare su questo ma insomma esattamente quello che lei ha detto sarebbe risolto dalla proposta del Partito Democratico di cui qui a Sky TG24 spesso ha parlato anche il responsabile giustizia Verini ma un'ultima domanda e abbiamo due secondi per la risposta se lei avesse la bacchetta magica Giorgia Meloni dove si vedrebbe a Palazzo Chigi presidente del Consiglio ministro degli esteri o puntini di sospensione ma madre di un altro figlio mi vedrei madre di un altro bambino che fa che fa compagnia a Ginevra sì però lei fa politica da troppo tempo non me la immagino solo mamma all'asilo quindi Palazzo Chigi ministro degli esteri no ma non solo mamma però non lo so non sono obiettivi non mi do mai obiettivi di carattere personale io penso che la politica sia una missione dove arrivo io lo decidono gli italiani non lo decido io dove servirò farò del mio meglio per fare bene il mio lavoro grazie Giorgia Meloni grazie a voi che ci avete seguito all'intervista di Sky TG24 vi do appuntamento come sempre a sabato prossimo grazie a tutti